Cari miei signori, utilizziamo ancora il castello dei bambini, ma anche i signori, anche i genitori e gli uomini possono venire e si fanno un po' di glutei perché questa sessione è dedicata a cosce e glutei. Basta uno scalino, utilizziamo la parte muscolare che resta a terra, quindi l'esercizio è questo, e utilizziamo i due scalini. Uno Due Tre Quattro Lo ripetete dieci volte per gamba, quindi cominciamo a fare questa parte dietro. Per rafforzare ancora di più glutei a cosce, il classico squat. Utilizziamo questa parte per limitare il piegamento e andiamo giù. Uno, sfioriamo appena. Due Tre Ecco qua che entra il vostro personal trainer, quindi do soddisfazione a tutte le signore che mi hanno detto Eh, siamo lì e perdiamo tempo. Non è vero signore mie? Allora vi faccio vedere. Scaldiamo le spalle. Uno, due. Portate bene questo all'orecchio. Cominciate a sciogliere e un esercizio per gambe e braccia, osservando i figli. Puntiamo, pieghiamo, pieghiamo e via. Mentre guardiamo i nostri bambini. Facciamo braccia, addominali e gambe. Ok? Visto che sono andate in tensioni le spalle. Le allunghiamo. Questo anche dall'altra parte. Bene, ci riposiamo e in avanti. Uno, due, tre, quattro. Stringiamo e apriamo. Nel frattempo stiamo osservando i nostri figli. Seconda serie e si riparte. Al prossimo giro. Da dopo.